Siamo oramai arrivati ancora una volta alla celebrazione della Pasqua e siccome per i cristiani è la festa più importante di un anno diventa più che naturale che ci si abbia a rivolgere anche un grosso augurio perché la Pasqua sia celebrata nel modo più efficace possibile che davvero la Pasqua abbia ad essere non solo quella festa che arriva nel contesto delle tante feste abbia a diventare la radice dalla quale tutte le altre feste poi nascono e si sviluppano a tutti davvero quindi l'augurio di una cordiale e buona santa Pasqua